Musica Edizione della sera da TG Versilia, ben ritrovati con la nostra informazione. Reati in calo in Versilia nei primi dieci mesi del 2016, lo riferisce la Prefettura in base ai dati forniti dalle forze dell'ordine. Prefettura che apre ad alcuni progetti, come quello del controllo di vicinato e anche l'allargamento delle polizie municipali. Facciamo il punto in questo servizio. Reati in calo in Versilia nel 2016, lo assicura la Prefettura di Lucca, a margine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto Giovanna Cagliostro, insieme a tutte le forze dell'ordine e gli amministratori dei comuni versilesi, per fare il punto della situazione in vista delle vacanze di Natale. Reati contro la persona e contro il patrimonio sono i più comuni, calati ovunque nel periodo gennaio-ottobre rispetto allo stesso periodo del 2015. Secondo i dati in mano alle forze dell'ordine, particolarmente buoni sarebbero i risultati su Viareggio, dove si assiste ad un calo dell'8,7%, 470 reati e commessi in meno in termini assoluti. Nel resto della Versilia il calo più netto è a Massarosa, a Camaiore e a Stazema, stazionari invece Pietrasante e Seravezza. In calo anche i furti in abitazione e le rapine dimezzate nella Versilia storica, ridotte di un terzo a Massarosa. Il Prefetto Cagliostro si è detta soddisfatta dei dati, sottolineando i buoni risultati ottenuti dall'unificazione delle polizie municipali di Pietrasanta, Seravezza e Stazema, confermando l'intenzione di potenziare la presenza di telecamere di sorveglianza sul territorio. A margine del comitato è stato potenziato il progetto di controllo di vicinato a Camaiore, con la firma del protocollo da parte del sindaco Alessandro Del Dotto, che è già attivo da maggio a Marignana, Pieve, Ponte Mazzori, sarà esteso a Capezzano, Pianore e alle Semiglia. Il progetto della cosiddetta sorveglianza partecipata vede autorizzare alcuni cittadini a segnalare casi sospetti alle forze dell'ordine, attraverso una linea diretta o un gruppo WhatsApp. Adesso invece con le immagini andiamo in Darsena a Viareggio, dove sono arrivate segnalazioni di una situazione che riguarda il piazzale Biancalana. Pensate, sono ancora presenti due roulotte, due camper che erano andati a fuoco praticamente sei mesi fa. Un incendio che era divampato di notte, era il 14 giugno di quest'anno, della scorsa estate, e ancora si trovano lì. Segnalazioni che ci sono arrivate alla redazione dai residenti della zona, ma anche dai tanti lavoratori che frequentano questo piazzale della Darsena. I due camper sono ancora sotto sequestro da parte delle forze dell'ordine. Il tutto era caduto in piena notte. Due strutture occupate da soggetti che ancora non furono identificati all'indomani dei fatti, e che non erano stati trovati. Comunque non ci furono feriti nel frattempo. È sorta anche una piccola discarica a cielo aperto. Per questo appunto le lamentele da parte dei residenti della zona che chiedono una rimozione per una questione di decoro, ma anche di civiltà. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cultura. Abbiamo mostrato in questi giorni le immagini dell'inizio del mese puciniano, perché proprio nelle ore scorse si è celebrato il 92esimo anniversario dalla scomparsa del maestro e il maestro veronese, il presidente della fondazione, ha tracciato già le linee guida della prossima edizione del Festival Lirico di Torre del Lago. Sentiamo Massimo Mazzolini. Un salto nel futuro prossimo. Come sarà il Festival Puciniano di Torre del Lago negli anni a venire, iniziando già dalla prossima edizione del 2017? Ne abbiamo parlato con il presidente della fondazione, Alberto Veronesi, a viareggio per le celebrazioni del 92esimo anniversario della scomparsa di Giacomo Puciniano. Tra le attendibili supposizioni c'è anche il ritorno dei grandi nomi della lirica a Torre del Lago. Il futuro del Festival è un futuro di intanto risanamento che sta andando avanti per merito del Consiglio di Amministrazione e del staff, del direttore generale e del direttore artistico del Festival e un futuro di rilancio. Rilancio con l'apertura e il proseguimento di Festival all'estero che stiamo facendo e il rilancio con i grandi artisti. Fra pochi giorni annunceremo il cartellone con questi grandissimi artisti, il ritorno di artisti mondiali che mancavano magari anche dall'Italia da parecchi anni e che hanno scelto per ritornare da noi non la Scala, non l'Opera di Roma ma i Festival Puccini di Torre del Lago. Per noi sarà un grande onore annunciare questo cartellone. E dunque saremo a vedere. Intanto ci spostiamo a Forte dei Marmi dove fa discutere la proposta del sindaco Buratti di poter realizzare dei centri benessere negli stabilimenti balneari proposta che ha il vaglio adesso del Consiglio regionale. Sentiamo nei dettagli di che cosa si tratta. Realizzare centri benessere negli stabilimenti balneari per combattere il fenomeno delle massaggiatrici abusive in spiaggia. È questo il progetto presentato dal sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti avanzato al Consiglio delle Autonomie Locali e presentato all'Anci regionale. La mozione, al momento allo studio delle commissioni in Consiglio regionale, prevede che gli stabilimenti balneari possano svolgere anche attività di centro benessere. e realizzare degli spazi dove poter offrire massaggi curativi eseguiti da professionisti autorizzati e qualificati. Per Buratti, insomma, bisogna regolarizzare un servizio in spiaggia al momento relegato all'abusivismo. Come rispondere a questa illegalità diffusa? La proposta che io ho avanzato, che è stata accolta da Anci e portata poi sempre dal sottoscritto in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, fra le osservazioni da presentare al documento già approvato dalla Giunta regionale, è quella di prevedere la possibilità negli stabilimenti balneari di avere degli spazi, dei luoghi dove poter fare queste prestazioni. In maniera da richiamare all'interno di un percorso legittimo e, diciamo così, di rispondere a una domanda che sicuramente, vediamo, c'è, c'è soprattutto da parte anche di molti stranieri che frequentano le nostre spiagge, una domanda c'è, a questa domanda dobbiamo offrire una risposta, una risposta nella legalità. La proposta di Buratti non mancherà di far discutere e al momento attende soltanto l'approvazione definitiva in Consiglio regionale. Rimaniamo a Forte dei Marmi per parlare di alimentazione e di crescita dei più piccoli. C'è stato oggi, infatti, un convegno importante a Villa Bertelli con i bambini protagonisti. Vediamo. Sport e cibo genuino da sempre sono la base di una crescita sana. Di questo si è parlato a Villa Bertelli nel corso del convegno di Move Up to Be Healthy and Happy, progetto cofinanziato dalla Comunità Europea entrato nel vivo a Forte dei Marmi, mentre i nutrizionisti, pediatri e psicologi della ASL Toscana Nord-Ovest sono intervenuti in sala sui temi inerenti alla salute psicofisica dei più piccoli, i bambini hanno preso parte a dei laboratori esperienziali tra colori, disegni e frutta fresca per imparare i corretti stili di vita e la sana alimentazione. Il piacere del muoversi, perché io penso che se rimane come coscienza del divertirsi, del muoversi come piacere, rimarrà per tutta la vita. Sono anche cosciente che è questa qui l'età, è proprio dagli 8 ai 13 anni che si può lavorare su questa motivazione. Infatti nel progetto sono inseriti anche, partecipano pienamente ragazzini diversamente abili e anche ragazzini con bisogni educativi speciali. E questo anche proprio perché è un'esperienza che deve essere per tutti, in modo particolare anche per ragazzini che possono trovare con la socializzazione e col gioco e con il divertimento e l'amicizia con gli altri. Oggi noi qua i genitori impareranno, probabilmente sapranno già tante cose, però questo vuole essere un aiuto nel fare alcune scelte nella salute e nell'alimentazione dei propri figli. Mentre i bambini oggi qua avranno la possibilità di dilettarsi con un laboratorio specifico dove manipoleranno degli alimenti e prepareranno una merenda che poi gusteranno tutti insieme alla fine di questo convegno. A Viareggio è iniziato il processo per riaprire il teatro Ienco in Darsena, lo annuncia l'amministrazione del sindaco Giorgio Del Ghingaro che ha assunto all'interim la delega alla cultura, ha convocato in mattinata la Commissione Cultura e i dirigenti dei lavori pubblici durante l'incontro ha dato mandato per iniziare subito il percorso per la messa a norma del teatro. Come ricorderete nel settembre 2014 il teatro Ienco era tornato nella disponibilità dell'amministrazione comunale grazie ad una delibera e per questo appunto c'è questo percorso avviato adesso dall'amministrazione. Nel settembre 2014 era stato chiuso e nell'ottobre 2015 preciso è tornato nella disponibilità dell'amministrazione. Parliamo adesso di promozione del territorio e di turismo con una singolare iniziativa che è stata presentata dalla Confesercenti. Sentiamo. Aperitivi del turismo questo è il nome del progetto promosso da Confesercenti e presentato dalla Presidente Nazionale Smeralda Giampaoli nella sede della Camera di Commercio di Lucca. Scopo dell'iniziativa è quello di lanciare nuove idee e progetti per la promozione dei prodotti del territorio lucchese e discutere sulle tematiche del turismo e della ricettività. Cominciare a ragionare in termini di territorio ampio e capire quali aziende quali pool di aziende quali relazioni si possono mettere insieme per fare in modo che la grande varietà la grande ricchezza del territorio della provincia di Lucca sia in qualche modo resa comunicante con altri territori che magari da un punto di vista turistico sono più avanzati. Un esperimento che propone degli incontri fra tutti i soggetti appartenenti al mondo del turismo a tutti gli interessati e agli operatori legati alla strada del vino e dell'olio Lucca-Montecarlo-Versilia come sottolineato dal presidente Alessandro Adami. Mettere insieme i nostri operatori attraverso anche le loro organizzazioni è un punto centrale dei nostri programmi e delle nostre politiche. quindi il progetto lanciato dalla Confesercenti esposa in pieno le nostre strategie le nostre azioni e ci auguriamo che veda nel proseguo un coinvolgimento anche di tutte le altre organizzazioni in primis quelle del settore agricolo. In occasione della festività di Santa Barbara patrona dei marinai artiglieri minatori e vigili del fuoco questo sabato alle 11 sarà celebrata una santa messa in via Porta Pietrasanta alla Casina dei Ricordi siamo a Viereggio l'occasione è quella di commemorare la patrona e le vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 nel luogo simbolo di quel disastro. Parliamo invece di iniziative di Natale da Massarosa è partito ormai il conto alla rovescia per l'appuntamento la rassegna magie di Natale i mercatini natalizi itineranti che toccheranno molte località del comune di Massarosa la prima tappa è a Piano di Conca questa domenica 4 dicembre nel centro storico dove tutti i negozi saranno aperti per consentire gli acquisti iniziativa del comune di Massarosa a cui hanno aderito molti operatori che vedrà il coinvolgimento di molte famiglie del territorio. Ci fermiamo per una pausa tra poco ancora insieme con le notizie sportive. ben ritrovati siamo alla pagina sportiva in primo piano stasera c'è l'hockey su pista andiamo in casa del Forte Remarmi reduce da un pareggio deludente contro il Cremona oltre al pari si aggiunge anche la multa che è arrivata ai danni della società rosso-blu per il comportamento di alcuni tifosi facciamo il punto in questo servizio è finita con un deludente pari la sfida non è impossibile tra il Forte e il Cremona i campioni d'Italia non hanno sfruttato i tiri diretti e hanno sbagliato anche il rigore della vittoria all'ultimo secondo il Cremona ha strappato un pari inatteso ma il Forte resta in testa dalla classifica perché frenano anche le avversarie Forte Remarmi che scende in pista stanco dopo le fatiche europee al palasporto di Vittoria Puana va sotto al settimo minuto il tiro rimbalza nella rete di fondo e termina sulla stecca di Cacao che al volo realizza i rosso-blu protestano per la palla alta ma l'arbitro non sente ragioni e convalida il Cremona poi para due bei tiri di Torner e De Oro e il primo tempo finisce così sull'1-0 per gli ospiti il pareggio arriva a fatica al nono minuto della ripresa con un gol di Pagnini che devia in rete un assist di Torner dopo che Orlandi aveva colpito un palo al tredicesimo Torner sbaglia un rigore al ventesimo è Romero dalla punizione di prima a non sbagliare e così raddoppia risultato ma un minuto più tardi arriva subito il pareggio di Silva per il 2-2 finale il Forte dei Marmi grazie ai risultati delle altre piste conserva il primato in classifica a 20 punti dietro inseguono a soli due lunghezze il Cigici Viareggio e i Lodi per proseguire la corsa sabato sera sulla pista del Monza il Forte dovrà vincere c'è però amarezza il giorno dopo per la società Rosso Blu condannata ad un'ammenda da 1250 euro per le offese rivolte dai tifosi a Sergio Silva giocatore del Cremona durante il match e per uno striscione offensivo poi rimosso prima dell'inizio della ripresa Questa è la situazione in casa Rosso Blu se andiamo invece dal centro Giovani Calciatori c'è delusione per un pari immeritato infatti c'è la grande entusiasmo per la prestazione dei bianconeri con la vittoria che sembrava vicinissima nel servizio sentiamo le parole dell'allenatore Alessandro Bertolucci e anche il commento del capitano in gran forma Nicola Palagi Il capitano Nicola Palagi nonostante un problema alla spalla che si era procurato in Spagna nell'occasione della gara con il Vendrell di Coppa Cers è sceso regolarmente in pista a Sarzana ed è risultato sicuramente uno dei migliori della squadra trascinando i bianconeri a dimostrazione di essere davvero il vero capitano di questa squadra Non parlo degli arbitri perché tanto gli arbitri sono questi e ce li dobbiamo tenere così credo che facciano il possibile per arbitrare nella migliore maniera a volte gli sfuggono un po' le partite di mano però credo che sia anche normale c'è sfuggita anche a noi la partita di mano potevamo chiuderla sul 3 a 2 abbiamo avuto varie occasioni per andare avanti di un paio di reti non le abbiamo sfruttate e alla fine per un infortunio abbiamo parigiato la partita non facciamo drammi Al microfono di Daniele Maffei sentiamo l'analisi sulla partita dell'allenatore del centro giovane dei calciatori Alessandro Bertolucci deluso sicuramente non della prova dei ragazzi ma sicuramente per l'arbitraggio che ha condizionato la gara dicessi quello che penso sarebbe un problema però mi preferisco stare concentrato sull'occhio giocato che su altre situazioni la squadra ha fatto a parer mio una buona gara abbiamo avuto palle anche per chiudere la partita siamo stati poco lucidi poi alla fine sapevamo che in una pista del genere un banale errore poteva costare caro ma però credo che la partita l'abbiamo condotta noi nonostante questa grande trasferta qui in Spagna che ci ha portato via grandi energie non posso recrimere niente la squadra stasera situazione ancora difficile in casa del Viareggio 2014 così parliamo di calcio serie D nelle prossime ore se troveranno un accordo con la proprietà del Viareggio saranno trasferiti alcuni giocatori si parla di Villagatti di Paola e Pagano che andranno alla Massese Mariani invece verso il Monte Catini Rosati a Real Forte Querceta ma nei prossimi giorni ci potrebbero essere anche altre partenze situazione dunque molto delicata in casa Zebrata l'attaccante del Seravezza Pozzi invece ex Real Forte Querceta Cesare Arzelà è approdato al San Marco Avenza in eccellenza nello stesso girone del Seravezza per quanto riguarda invece i recuperi del campionato di terza categoria ci sono due risultati che vi diamo Don Bosco Mazzola San Macario finita 1-1 Unione Chiesa San Vitesse 4-1 Ci fermiamo ancora per una breve pausa tra poco ancora insieme con gli ultimi aggiornamenti Ben ritrovati terza parte del Tg Versilia con un aggiornamento e l'appello che arriva dal Partito Democratico di Viareggio per portare il documento del mondo che vorrei onlus contro la prescrizione alla strage in consiglio comunale il gruppo consigliare del PD come spiega il capogruppo Luca Poletti aveva già annunciato in un incontro avuto con Marco Piagentini il proprio sostegno al documento per questo c'è la richiesta di portarlo alla prima seduta del Consiglio Comunale che tornerà a riunirsi nelle prossime settimane non ci sono altre notizie come sempre ormai facciamo in queste ultime settimane gli auguri per chiudere il nostro telegiornale questa sera gli auguri alla piccola Aurora che festeggia 4 anni auguri da parte della mamma la Sara di papà Matteo dai nonni dagli zii e perché no anche dagli amichetti dell'asilo auguri ancora ad Aurora è tutto davvero per questa edizione grazie dell'attenzione buona serata grazie a tutti